Rapine violente in abitazioni e ville e dietro la banda anche l'ombra di Cosa Nostra. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri ed altre otto, fra cui cinque minorenni denunciate dagli stessi carabinieri nell'ambito dell'operazione Milicia Violenta. La banda prendeva di mira soprattutto le ville di Altavilla Milicia e della zona limitrofa del Palermitano. A guidarla sarebbe stato Umberto Guagliardo, arrestato nel maggio del 2013 nell'ambito dell'operazione antimafia Argo e sarebbe stato lui probabilmente il punto di contatto fra la banda e Cosa Nostra. Attualmente è detenuto. Numerosi i colpi contestati al gruppo fin dal 2012.